Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento del mattino delle 7.30 in diretta sul canale 17, si apre la finestra informativa sul territorio attraverso i giornali, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino per vedere quelle che sono le notizie più importanti da questi due quotidiani però prima cominciamo dal santo di oggi, la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni Evangelista, il sole è sorto alle 7.40 e tramonterà alle 16.36 vediamo il tempo per oggi, questo è il sito della protezione civile delle Marche che come sempre pubblica sul sito le previsioni per la giornata odierna e per i prossimi due giorni cominciamo da oggi, martedì dicevo 27, oggi è previsto cielo poco nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori massimi per domani invece ancora cielo sereno poco nuvoloso con possibile aumento della copertura nuvolosa dalla tarda serata ma vedete per tutto il resto della giornata invece ci sarà comunque il sole le temperature sono in diminuzione nei valori minimi per la giornata di giovedì, siamo quasi a ridosso dell'ultimo dell'anno, insomma il 29 avremo ancora cielo poco al più parzialmente nuvoloso con qualche addensamento più consistente sul settore meridionale durante la notte, non si escludono locali o brevi fenomeni nel settore montano meridionale nelle prime ore notturne, le temperature sono in diminuzione nei valori massimi per quanto riguarda il tempo nei prossimi giorni, almeno fino a domenica il tempo sarà comunque stabile dunque continua questa alta pressione a garantire il bel tempo su gran parte della nostra regione allora torniamo a vedere dopo la pausa natalizia e di Santo Stefano torniamo a leggere i giornali, cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico il titolo per l'edizione peserese è quello che riguarda la cronaca di Acqualagna dove c'è stata la tragedia, una tragedia che si è consumata in pochi minuti nel giorno di Natale un uomo che è morto soffocato dal fumo le braci del camino trasformano le case in una trappola è stato Daniele Ciabocchi di 48 anni che viveva da solo è soffocato dalle esalazioni e dal fumo dopo che alcune scintille sprigionate dal camino hanno intaccato il divano sul quale l'uomo si era addormentato e le fiamme hanno trovato facile esca anche sugli indumenti della vittima a centro pagina invece lo sport con la VL che va all'assalto di Pistoia e Biancorossi con una vittoria farebbero un bel passo verso la salvezza la sfida dei coach, Bucchi non ha mai battuto esposito questa è la prima pagina del Corriere Adriatico ma andiamo a Senigallia a Senigallia c'è un'altra notizia di cronaca un volo dalla finestra di casa muore a 41 anni il barman Giorgini Cristian Giorgini lo vedete nella fotografia qui sotto era il volto della Meridiana e titolare del Mille Luci un biglietto ai familiari con la scritta Perdonatemi era sempre sorridente con il padre Gualtiero poi la scomparsa della mamma e dello zio Chef il salto nel vuoto lungo la strada della Bruciata a Cesano dove i nonni fondarono appunto il ristorante ecco la foto della vittima poi sempre sulla cronaca di Senigallia il calcio, il calcio cittadino piange Luciano Messersì da tutti conosciuto come Bistecca un brutto incidente poi l'agonia e la morte il giorno di Natale aveva 66 anni è morto così appunto Messersì noto come Bistecca appunto noto negli anni 70 anche come il mago del caffè quando lavorava come barista da Giampaoli ma i più giovani lo ricorderanno come custode dello stadio delle Saline dove ha collaborato con molte società sportive e poi sempre dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico guardate sotto la fotografia l'allarghiamo di un giovane pakistano che è stato soccorso lungo via Monteverdi è un ragazzo che è finito a terra in mezzo alla strada è stato soccorso lamentava forti dolori ma non ricordava assolutamente nulla di quello che gli era accaduto la pagina di Fano invece l'interquartieri eccola qua la foto grande di questa nuova arteria stradale che però adesso è un po' sotto osservazione per cercare di capire e di risolvere le magagne ci sono stati già degli incidenti ecco la mappa delle nuove criticità traffico alleggerito nelle vie vicine ma troppe zone con pedoni a rischio attraversamenti azzardati e segnali assenti tra l'altro all'asilo del Poderino le strisce pedonali sono in curva e chi ci transita vede solo all'ultimo minuto all'ultimo istante i passanti l'assetto della rotatoria vicino a Giovagnoli porterebbe fuori strada ed è un potenziale pericoloso mentre Sassoni e Porto sarà la via della rinascita si inaugura il tratto con pista ciclabile che ridarà smalto all'area portuale ma di un'altra pista ciclabile si parla quella del Fano che collega a Fenile in arrivo a 90 mila euro ascoltata una delle letterine scritte dai bambini alla sindaco nei giorni scorsi e comunque era tra le più richieste questa pista ciclabile ora sembra che questo desiderio stia per avverarsi infatti questa pista ciclabile che collega appunto Fano al quartiere di Fenile vede infatti un nuovo passo avanti verso la sua realizzazione cioè l'impegno di spesa di una somma pari a 90 mila euro per il completamento di questo tratto ciclabile poi la notizia del pesce azzurro che devolve a Teleton 5 mila euro di incassi vedete qui il momento in cui si festeggia questo traguardo con al centro Marco Pezzolesi che è il direttore di questo importante ristorante self service pesce azzurro sono 11 anni che il gruppo devolve parte del ricavato dei suoi 5 locali alle attività di ricerca e poi sul Corriere in fondo potete leggere anche la notizia della vigilia di Natale dove c'è stato un incidente vicino in molti sono rimasti incolonnati per gli effetti appunto di questo incidente con la macchina lungo la statale quattro mezzi coinvolti l'ultimo ha travolto un ciclista soccorso poi nelle ambulanze le ambulanze che vedete è atterrata sul vicino all'asta dentro all'interno della stazione ferroviaria di Fano un incidente dicevo poco prima di mezzogiorno alla vigilia di Natale all'incrocio tra via Mariotti e viale 12 settembre quando il Natale è donna invece il racconto di alcune giornate dove Sergio Carboni insieme a Daniele il figlio ospiti d'onore all'osteria di Marinelli poi la cooperativa Tre Ponti la tombola con Miss Fano Federica Tombari e alcune modelle due iniziative all'insegna della bellezza e dell'abito tradizionale ma declinato appunto al femminile nella pagina della Valle del Cesano a Orciano quattro sindaci per un comune ecco le novità del 2017 Terre Roveresche questo nuovo comune che nasce dalla fusione dalla fusione di Barchi di Orciano di San Giorgio di Pesaro insomma poi ci sono anche i nomi dei sindaci che adesso se volete vi posso anche perché saranno ancora in carica per quattro giorni poi arriverà il commissario prefettizio Marisa Amabile che avrà il compito di controllare la situazione fino alle nuove elezioni che dovrebbero essere intorno alla prossima primavera insomma appena ci saranno appena arriverà il tempo utile comunque dicevo questi quattro sindaci dell'ex Unione Roveresca Claudio Patregnani per Barchi Stefano Bacchiocchi per Orciano Maurizio Cionna per Piagge e Antonio Sebastianelli per San Giorgio di Pesaro resteranno ancora in carica per quattro giorni e il giornale questa mattina spiega un po' quelle che saranno le novità di questa dal primo di gennaio quando appunto arriverà il commissario prefettizio e che cosa accadrà cosa cambieranno quali saranno le novità e questa è la pagina principale della Valle del Cesano poi guardate questa immagine invece è la nuova cabina da ieri in funzione sul Monte Catria è un progetto che era iniziato quattro anni fa da ieri grazie al lavoro tra pubblico e privato con il comune in testa che è quello di Frontone e la Monte Catria impianti Scarla sono entrate in funzione dicevo nell'impianto di risalita queste 12 cabinette chiuse in sostituzione dei cestelli quelli gialli che qualcuno li avrà usati di sicuro per salire sul Monte Catria che invece erano aperti si tratta della prima cabinovia presente in tutta la nostra regione e sono anche vedete sono piccoline però insomma sono certamente più confortevoli poi si parla di un libro un libro qui di spalla di Marco Gasparini che conquista anche i social questo è il titolo il libro a cura del vice direttore della comunicazione diocesana si chiama appunto l'amore e Marco Gasparini lo vedete in questa fotografia qui sotto andiamo adesso sul resto del carlino invece perché anzi no l'ultima pagina del Corriere Adriatico quella di Pesaro e Provincia eccola qui allora c'è questa pagina dedicata a Ivan Cottini l'ex modello che da 5 anni combatte contro la sclerosi multipla si racconta senza filtri parla di felicità di paura della ricerca di equilibrio anche nell'apparire in televisione in tanti lo vogliono voglio consegnare dice lui a mia figlia un mondo migliore ricevo minacce e offese racconta ancora io non uso la malattia e vado avanti con 300 euro al mese qui lo vedete con Filippo Magnini poi sotto invece la notizia che Covatta scriverà un libro mentre la presidente della Camera Boldrini lo incontrerà il guerriero di Urbani ha preso presto sarà anche su Sky Sport 24 con Ambrosini e con Magnini e adesso andiamo a vedere invece il resto del carino guardate questa fotografia che insomma ci fa capire molte cose che cos'è una fioriera una delle tante fioriere messe a protezione del centro storico fioriere anti-attentato in centro a Pesaro dopo Berlino per rafforzare la sicurezza sono stati posizionati questi ostacoli anti-tir nelle vie d'accesso che portano appunto a Piazza del Popolo a Pesaro poi si parla di uno schianto all'incrocio gravissima una scuterista lo vedremo tra un istante e poi nuova banca Marche a fare fatto pronto il via libera a UBI rischi per i dipendenti sindacati dicono abbandonati dallo Stato e anche qui la notizia della morte per soffocamento da fumo la notte di Natale di Ciavo 48 anni personaggio conosciutissimo di Acqualagna ma andiamo a vedere un attimo la pagina di Fano del resto del Carlino perché l'Interquartieri le barriere quelle tanto criticate sono state già imbrattate dai graffitari Vandali già imbrattata l'Interquartieri questo è il titolo nel Mirino i Maxi Pannelli sono assorbenti a 5 giorni dall'inaugurazione è incredibile non si riesce a liberarsi da questa piaga che è una cosa devastante proprio dà il senso della precarietà di una città del degrado le scritte quelle che piacciono tanto a questi balordi e che purtroppo invece rendono triste subito una città quando arrivi in queste città sporche così con queste scritte sono una roba che purtroppo ti mettono nel cattivo umore poi invece sotto spot sulle rotatorie cioè le pubblicità vedete le pubblicità queste qui che vengono lasciate messe posizionate sulle rotatorie sono dei cartelli pubblicitari come se ne vedono tantissimi un altro imprenditore protesta è il titolare di Radiofano che dice quanti problemi per mettere i nostri cartelli il comune ha sempre sostenuto che le pubblicità distraggono gli automobilisti ed è appunto questa il nodo la giustificazione che però non a tutti piace poi in questo caso però Fano cresce che è a tutti gli effetti una pubblicità per il comune è lì ed evidentemente questa non distrae così sembra travolse un'auto invece travolsero con l'auto madre e figlio che stavano andando questa è una tragedia credo che sia lo scorso Natale alle porte di Rimini Sud sull'autostrada 14 travolse auto morirono madre e figlio la procura chiede il processo per omicidio colposo nei guai un fanese di 44 anni era la mattina di Natale l'auto su cui viaggiava la famiglia Jovinda è stata travolta in corsia d'emergenza a 50 metri dal casello di Rimini Sud da una Opel Corsa guidata da un fanese di 44 anni in quello schianto sono rimasti uccisi una donna di 27 anni e il suo figlio più piccolo di 8 mesi e mezzo mentre rimasero feriti anche altra gente altri componenti della famiglia di quella famiglia che appunto venne dimezzata da questo terribile schianto e adesso appunto la procura chiede il processo poi altri altre notizie sulle pagine del resto del carlino oggi alle 15 invece ad Acqualagna il saluto l'ultimo saluto il funerale di Ciabò Ciabò che è morto soffocata da un incendio in casa ad Acqualagna lo chiamavano così al secolo Daniele Ciabocchi 48 anni senza un lavoro preciso ma conosciuto da tutti ad Acqualagna trovato morto intossicato nella sua casa nella mattina di Natale Ciabò viveva da solo in un appartamento su due piani nel corso e sembra che sia stato proprio lui a chiamare i soccorsi quando le fiamme sono uscite dal cammino acceso che però ormai lo stavano divorando ed è successo tutto mentre lui si era appisolato mentre dormiva e purtroppo poi non c'è stato più nulla da fare e a Piobbico invece la tragedia di Marco che è stato fulminato da un infarto ieri c'è stato l'ultimo saluto a questo giovane informatico di 37 anni che si è schiantato con l'auto a Cagli un malore mentre era in macchina un colpo al cuore che è stato fulmineo ed è morto così appunto Marco Bertozzi queste le notizie sulla pagina di Fossombrone Cagli e Urbagna adesso andiamo invece a Marotta perché la notizia eccola qua la notizia è che ci sono due piccoli che sono stati battezzati dal vescovo diventate testimoni di una fede possibile toccante cerimonia per una famiglia nigeriana di Ponte Sasso impartiti anche i sacramenti della prima comunione e della cresima pronto il defibrillatore in piazza qui c'è il cuore della città sempre da Marotta installato il macchinario pubblico l'accesso donato da questo di pubblico accesso installato il macchinario di pubblico accesso donato dalla croce rossa del posto croce rossa locale direi che ci siamo quasi l'ultima pagina del resto del carlino eccola qua e per questa questa donna di 66 anni vedete il suo motorino qua a terra un incidente un incidente sulle strisce di attraversamento di via Kennedy angolo con via Flaminia a Pesaro lo scooter proveniva dalla direzione Fano e andava verso Pesaro la macchina invece veniva da via Fratti ed andava verso Monte Granaro c'è stato questo impatto e adesso questa donna di 66 anni Rita Battistelli nata a Pesaro si trova in reanimazione ed è appunto in gravi condizioni questa è la notizia che troverete a pagina 7 del resto del carlino di oggi io mi fermo qui grazie per la vostra cortese e attenzione vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia e se avete delle segnalazioni da fare potete inviarcele con foto video o semplicemente con un sms di testo anche utilizzando l'applicazione di Whatsapp oppure scaricando la nostra app gratuita sui social scusate sui su Apple Store oppure su Google Play sono applicazioni basta scrivere Occhio alla Notizia naturalmente gratuite è tutto buona giornata e a stasera la notizia la notizia di